Buongiorno a tutti, mi chiamo Leonardo e adesso vi presenterò l'applicazione Bubble.ass. Questa applicazione offre la possibilità di generare e condividere direttamente online le proprie mappe mentali o concettuali e effettuare un vero e proprio brainstorming. E' un programma molto semplice e intuitivo. Come possiamo visualizzare? Si possono utilizzare sia la versione base gratuita in cui non si necessita la registrazione e a lavoro svolto possiamo solamente salvarlo come immagine o html oppure si può effettuare la registrazione sempre gratuita. Eccoci, in questo caso ci si apre una propria cartella che può contenere al massimo tre file in cui noi possiamo salvare i nostri lavori e vengono mantenuti in memoria. altrimenti con upgrade possiamo notare come nella versione a pagamento l'applicazione offre molti più vantaggi. Ma noi continuiamo sulla versione free. Qui ho preparato due elaborati molto semplici per farvi avere un'idea di come funziona questa applicazione. Qua in ordine spalso rappresenta un brainstorming di parole che si possano avvicinare al concetto di amicizia mentre qui ho inserito i mesi dell'anno e quei rispettivi giorni per avere un quadro completo dell'anno. Se noi volessimo invece partire da zero come si fa? New Mind Map si apre una cartella centrale chiave nella quale noi possiamo subito inserire la parola che vogliamo per esempio, ciao Questa parola può essere messa in grossetto, in corsivo si può cambiare lo sfondo alla cartella si può decidere le cartelle successive in che ordine vogliamo visualizzarle si può visualizzare la grandezza decidere se parla più grande o più piccola bene dalla cartella principale noi possiamo avere una cartella fratella o sorella e un figlio la cartella figlio la cartella figlio viene collegata alla cartella padre quindi da qui possiamo generare più figli sempre legati tramite linea alla parola principale sulla linea noi volendo possiamo inserire altre parole come mandi se facciamo i saluti così facendo noi possiamo creare il nostro progetto e alla fine possiamo condividerlo tramite mail o osservarlo anche noi in html o immagine spero che questo tutorial vi sia stato utile arrivederci alla prossima ciao 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 ciao